Novità nel mondo dello sport Ligure. Inaugura a Genova la nuova casa delle federazioni. Il presidente del credito sportivo fa i conti. La nostra convenzione è un'altra risposta, come è stato sottolineato, noi stiamo procedendo in questo senso, non finanziamo più solo le strutture sportive, non ci occupiamo più solo dei contenitori, che non sono quelli che restituiscono denaro, restituiscono efficienza, ci occupiamo prevalentemente di progetti sportivi e ci piace molto pensare che occuparsi di progetti sportivi significa occuparsi degli uomini che sono in grado di farli funzionare perché voi mi insegnate che ci sono progetti straordinari che non funzionano perché non hanno interpreti, ci sono progetti anche mediocchi che funzionano straordinariamente perché ci sono degli interpreti straordinari. Per noi oggi è importante capire i progetti, è importante capire chi sono le persone che potranno interpretare quel progetto perché attraverso questa capacità sia di progettazione che di formazione noi costituiamo un po' le basi per il nostro futuro. Con il presidente Croce noi abbiamo concepito una convenzione nuova, non è più aria, non è più tempo di scrivere, di fare le cornici o di scrivere convenzioni che non servono a niente, il credito sportivo mette a disposizione della federazione, dell'intero movimento nazionale della federazione 30 milioni di euro per investimenti, oggi rispetto a prima questi 30 milioni di euro il credito sportivo li impegna, vuol dire che li mette a disposizione della federazione, l'italiana vele non li mette a disposizione di un altro, quindi significa che noi ci aspettiamo che vengano spesi bene e questo è credo l'auspicio anche del presidente Croce. La novità sostanziale che mi pare vada assolutamente in linea con quelle che sono le esigenze attuali che noi abbiamo è che non finanziamo solo le strutture ma finanziamo anche tutto quello che serve per far funzionare questo sport, quindi le imbarcazioni, le strumentazioni, anche tutti quegli investimenti di carattere strumentale e la struttura a fare grande il movimento sportivo.